cacopo fermati un attimo in qualsiasi momento che vi fermate sulla scala il carico sempre in sicurezza è un prodotto tra l'altro che consente di visualizzazione anche sulla scala 300 kg questo questo 300 kg volendo se si vuole sedere sopra il fotocopiatore è l'unico che sta facendo automaticamente questa operazione quindi il cibo si sulle si lascia scusare al terrofo e a questo punto non c'è bisogno di entrare completamente grazie